Benvenuto nella guida definitiva al trading online a cura di guidatradingonline.net dove partendo dalle assolute basi di questo settore arriveremo fino a comprendere meglio i mercati finanziari questa è una guida pensata per le persone che sono alle prime armi nel settore si stanno magari avvicinando adesso, si stanno affacciando sul mondo del trading ma ancora non riescono a capire benissimo come funziona questo settore ecco per l'ora abbiamo pensato di fare un maxi riassunto di guidatradingonline.net resteremo insieme per circa un'oretta quindi ti chiedo scusa se magari nel frattempo dovrò bere però cercherò di farti compagni e soprattutto di spiegarti esattamente come si entra nel mondo del trading con successo e delle cose che scoprirai oggi qui ti ho anche preparato un piccolo ripilogo prima di tutto vedremo in breve chi siamo e perché comunque è importante affidarsi anche a persone che sanno di cosa stanno parlando quando parlano di trading che cos'è, cosa ti permette di fare questa bellissima disciplina che noi tutti amiamo e pratichiamo ogni giorno come muovere i tuoi primi passi nel settore non facendo gli errori tipici che purtroppo la maggior parte dei trader commette e che alla fine purtroppo porta anche la maggior parte degli account sia demo che reali a bruciarsi in pochi giorni e andando avanti scopriremo appunto anche perché moltissimi trader vengono appunto truffati e qual è la differenza tra loro e i trader professionali e da ultimo andremo anche ad analizzare alcune strategie da conoscere e consigli pratici facili da azionare per essere finanziariamente saggi e profittevoli nelle nostre operazioni di trading guidatradingonline.net è uno dei siti di riferimento nel settore è scritto da trader, è una redazione di circa 10 trader che tutti i giorni lavora per scrivere guide, approfondimenti e tutto il resto che può essere utile ad accompagnare le persone meno esperte per farle entrare con successo nel mondo dei mercati finanziari ad oggi oltre 20.000 trader al mese leggono le nostre pubblicazioni ma questo numero è in costante aumento e quindi probabilmente già quando leggerai questa guida sarà aumentato proprio per via del successo che ha anche avuto sulle persone e su altri trader il nostro sito siamo finiti su ansa.it, dnkronos, trendonline, miranofinanza ma ci sono moltissimi altri siti che semplicemente non avevamo più spazio per citare quotidiani e testate giornalistiche che hanno parlato di guida tradingonline.net e dei suoi contenuti quindi sappiamo esattamente come si lavora nel settore lo facciamo da anni e siamo qui per accompagnarti partendo dalla nostra esperienza e anche da quella dei nostri lettori ora, perché fare tradingonline? ci sono almeno tre buoni motivi per cui avvicinarsi a questo settore è utile e interessante e non a caso sempre più persone scelgono di farlo il primo motivo è che è un mercato triliardario letteralmente tutti i giorni avvengono scambi per triliardi di euro sui mercati e ognuno dei partecipanti a questo settore quindi ogni trader ma anche grandi fondi di investimento banche, ci sono tantissimi operatori non solo i trader privati competono alla pari e possono spartirsi una fetta di questi triliardi di euro è più conveniente fare questo che far gestire i tuoi soldi ad altre persone o comprare titoli attraverso la banca sia perché risparmi tantissimo in commissioni sia perché puoi dare tu la direzione che preferisci ai tuoi investimenti sia perché soprattutto quando sei tu ad investire scegli i titoli che preferisci mentre spesso quando ti affidi a promotori o altri operatori del settore loro ti fanno comprare i titoli che alla loro azienda o alla loro banca convengono e che ti vogliono propinare perché magari ce li aveva proprio in portafoglio la banca e adesso non li vuole più da ultimo è un settore scalabile e intramontabile quindi se tu inizi una carriera da professionista nel mondo del trading non c'è un limite a quello che puoi realizzare e tra l'altro è un lavoro che non diventerà mai obsoleto perché come saprai insomma con la rivoluzione digitale moltissimi lavori si sono persi altri si sono nati ecco sicuramente il settore del trading è un settore che è giovane è in grande evoluzione e dinamico e siccome ti mette in diretto contatto con i mercati finanziari è una cosa che non può tramontare fisicamente impossibile perché ci sarà sempre bisogno comunque di mettere in contatto persone che vogliono comprare e vendere quote di società piuttosto che materie prime o altri strumenti finanziari ecco se vogliamo dare una definizione di trading infatti è proprio questo fare trading che letteralmente in inglese vuol dire scambiare vuol dire comprare e vendere strumenti finanziari per speculare sull'andamento del loro valore strumenti finanziari possono essere ad esempio l'oro che vedi ad esempio in un esempio pratico qui sotto rappresentato con il suo grafico della prima parte del 2020 ecco qui un trader che fosse entrato sul mercato ad esempio a 1280 dollari l'oncia dopo poche settimane avrebbe chiuso la sua posizione a 1387 dollari l'oncia quindi con un guadagno sul prezzo dell'oro dell'8,3% niente di strano succede da tanto tempo da più ormai di 100 anni si scambia in borsa ogni genere di materia prima e l'oro è stata una delle prime a essere introdotte e tra l'altro grazie al trading online si può fare anche di più infatti come vedremo meglio dopo con la leva finanziaria avremmo potuto trasformare una posizione dell'8,3% di profitto in una posizione dell'83% o addirittura dell'830% di profitto e poi ci sono altre cose da tenere a mente come ad esempio il fatto che se l'oro fosse sceso e noi avessimo anticipato la sua discesa avremmo anche potuto guadagnare dalla sua discesa per l'appunto cosa che nei mercati tradizionali non si poteva fare quindi andiamo meglio ad analizzare che cosa puoi negoziare qui ci riferiamo alle piattaforme che noi stessi consigliamo e ci sono ad esempio materie prime azioni valute criptovalute purtroppo il simbolo di bitcoin si è cancellato e i metalli non solo quelli preziosi come l'oro ma anche quelli strumentali aziendali come possono essere il rame o l'alluminio poi ci potrebbero essere anche altri strumenti che non citiamo come gli indici gli etf i fondi ma per farti un esempio molto pratico appunto questi sono i primi i più famosi tipi di titoli finanziari che possiamo andare a negoziare con il trading per fare trading ci servono pochissimi strumenti il primo è la piattaforma il secondo è un deposito minimo quindi una cifra che noi investiamo caricandola sul nostro account all'interno della piattaforma che selezioniamo e da ultimo una connessione a internet ora le piattaforme di trading online che cosa sono e come funzionano le piattaforme di trading online sono software che ti permettono di entrare direttamente in contatto con il mercato quindi con la domanda e con l'offerta di strumenti piuttosto che materie prime piuttosto che qualsiasi altra cosa tu voglia negoziare all'interno del mondo dei mercati ora quando tu ti connetti a una piattaforma ti connetti a un software che non è un software come tutti gli altri ma è il frutto di un'azienda che se fa parte delle piattaforme consigliate dalla nostra redazione perlomeno ha ottenuto una apposita licenza in Europa è autorizzata ad operare in Italia da Consob quindi non è alla portata di tutti aprire una piattaforma di trading sono strumenti molto seri esattamente come le banche hanno tutta una loro regolamentazione il primo compito di questi software è permetterti di entrare in comunicazione diretta con i mercati finanziari quindi se tu vuoi vendere dei titoli di trovare qualcuno che te li compri e se tu vuoi comprarli di trovare qualcuno che te li venda la seconda cosa fondamentale è conoscere l'andamento dei grafici quindi osservare come stanno evolvendo i prezzi degli strumenti che ti interessano la terza cosa è gestire il tuo portafoglio quindi aprire nuove posizioni monitorare l'andamento di quelle già aperte se vuoi aumentare il tuo account di trading fare un deposito oppure se vuoi portare i soldi fuori dalla piattaforma di trading fare un prelievo e ultimo ma sottovalutato possiamo dire l'aspetto della formazione quindi la formazione è diventata un aspetto fondamentale nelle piattaforme di trading serie che appunto ti permettono di continuare a studiare e migliorare tutti i giorni le tue tecniche spesso con analisi webinar approfondimenti di trader molto esperti molto profittevoli che si mettono a disposizione dei clienti di un certo broker per parlare liberamente ecco dei loro pensieri delle loro previsioni per i mercati ora trovi un elenco completo delle piattaforme di trading in descrizione quelle che ti consigliamo sono le piattaforme più serie più efficienti meno costose che abbiamo trovato e ti assicuriamo che la nostra ricerca è stata veramente molto molto approfondita abbiamo testato decine di piattaforme di trading e su guida tradingonline.net trovi tutte le nostre recensioni di queste piattaforme con immagini screenshot tutto quello che abbiamo trovato e alla fine abbiamo creato un elenco delle piattaforme più efficaci più efficienti che consigliamo tutti di utilizzare e purtroppo ancora oggi nel mondo del trading ci sono molte piattaforme finte per così dire quindi piattaforme che non ti permettono di negoziare davvero strumenti finanziari ma semplicemente dopo che tu esegui un deposito poi spariscono con il tuo denaro e ci sono piattaforme come vedremo meglio alla fine della nostra guida che sono schemi ponzi e altre questioni molto problematiche quindi devi essere attento alla scelta della tua piattaforma e noi ti consigliamo assolutamente di guardare l'elenco che trovi su guidatradingonline.net oppure più semplicemente di utilizzare il link che trovi in descrizione per iscriverti subito e oggi utilizzeremo proprio una di queste piattaforme che è eToro eToro è un broker molto innovativo che ti permette di operare davvero a livelli professionali sui mercati e tra l'altro ci sono delle funzionalità uniche che ha questo broker che non ha nessun altro in tutto l'ecosistema del trading degli investimenti ad esempio per citarne una la più famosa è il social trading quindi una funzionalità che ti permette di esplorare l'andamento degli investimenti di tutti i trader presenti sulla piattaforma e di copiare in automatico quelli che preferisci quindi addirittura di non fare trading tu in prima persona se non lo desideri ma di delegare a dei professionisti che hanno rendimenti molto importanti l'apertura delle posizioni e poi eToro le copierà in automatico sul tuo account ma questa ti ripeto è solo una delle tantissime dei tantissimi vantaggi che ha eToro ci sono appunto anche azioni con zero commissioni e una serie di altri dettagli che trovi anche nella nostra recensione completa del broker su guida tradingonline.net qui è il momento di iniziare ad agire ti consigliamo di registrare il tuo account demo su eToro cliccando il link che trovi qui sotto per avere accesso immediato alla piattaforma e registrando un conto demo potrai iniziare la tua avventura a tutti gli effetti sui mercati finanziari il processo è molto semplice qui in descrizione trovi il link una volta che lo clicchi un link creato apposta per farti ottenere accesso immediato quindi potrai creare il tuo account gratis al 100% senza obbligo di deposito quindi basta scegliere un nome utente inserire la tua mail inserire la password e da ultimo il numero di telefono e una volta confermate le informazioni entrerai subito con 100.000 euro virtuali sulla piattaforma quindi il broker ti mette a disposizione questi 100.000 euro fittizi digitali e tu li potrai investire esattamente come investiresti se tu avessi un conto reale quindi tutte le funzionalità della piattaforma sono presenti sono complete e disponibili gratis hai la possibilità di studiare i grafici hai la possibilità di comprare vendere monitorare le tue posizioni esattamente come se tu avessi un account con soldi reali questo nel gergo tecnico viene detto un account demo ed è davvero una manna dal cielo per i trader alle prime armi perché fare pratica sull'account demo ti permette di poter crearti le skill di un professionista senza rischiare se ci pensi quasi in nessun altro business tu hai la possibilità di fare quello che fa un professionista per vedere se sia il caso di farlo oppure no se sei bravo oppure no e farlo esattamente come lo farebbe un professionista ma senza rischiare nulla senza aprire una partita IVA senza andare dal commercialista senza niente proprio solo mettendo quattro campi all'interno di un modulo e cliccando procedi questo è uno dei grandi vantaggi che rende facile fare trading online e se hai completato questo step non ci resta nient'altro che darti il benvenuto sui mercati finanziari noi ti consigliamo comunque di farlo subito adesso perché almeno strada facendo nel corso della guida potrai trovare tutti i riferimenti alle cose che diciamo potrai monitorare meglio anche in base a quello che vedi sulla guida quello che vedi sulla tua piattaforma insomma è molto meglio iniziare subito e fare un pochettino di pratica con il conto demo piuttosto che aspettare la fine della guida e così vedrai che troverai all'interno della piattaforma anche tutti i vari riferimenti delle cose di cui parleremo ora è importantissimo introdurre i CFD perché ora che hai la tua bellissima piattaforma di trading a disposizione è importante anche capire cosa c'è all'interno e come puoi utilizzarlo i CFD sono stati una vera e propria svolta nel mondo del trading online CFD è l'acronimo di Contract for Difference e finché non sono stati inventati il trading online era praticamente un sogno ora diventato realtà fino a poco tempo fa infatti gli investimenti erano per poche persone perché avevi commissioni molto molto alte che rendevano elitario esclusivo questo settore immagina ad esempio di avere 10.000 euro che non sono neanche così pochi da investire fino a pochi anni fa tu passavi attraverso una banca tradizionale che ti chiedeva magari per eseguito 100-200 euro magari c'era un promotore che si prendeva e intascava il 3-4-5% l'anno di quello che tu investivi quindi tu mettevi i soldi dentro un sistema che mangiava i tuoi profitti in commissioni alla fine tu andavi in pari o molto spesso ci perdevi anche se gli investimenti erano andati bene proprio perché tutto il rendimento veniva mangiato dalle commissioni i CFD sono riusciti a cambiare a rivaltare completamente questo concept e oggi non si tornerebbe mai indietro al trading senza CFD vediamo esattamente cosa sia intanto l'acronimo sta per contracts for difference quindi contratti per differenza a tutti gli effetti infatti sono contratti dei contratti tra te e il broker in ogni istante un CFD ha sempre il valore dell'asset che rappresenta se vogliamo fare un esempio un CFD dell'azione Amazon non è un'azione Amazon è un contratto si suol dire derivato quindi ogni ogni contratto derivato ha un sottostante in questo caso l'azione Amazon ma non è il sottostante quindi non è l'azione Amazon se però l'azione Amazon adesso vale 1000 euro anche il CFD dell'azione Amazon vale 1000 euro se domani l'azione Amazon passa a valere 1500 euro ovviamente stiamo facendo casi astratti ed estremi sia perché le azioni Amazon ora valgono sui 2300 dollari sia perché difficilmente faranno più il 50% in un giorno però il concetto è se domani valgono 1500 anche il CFD varrà 1500 se tra due giorni diventa 1200 allora anche il CFD vale 1200 quindi il CFD replica fedelmente l'andamento dell'asset sottostante essendo un contratto tra te e il broker quindi tu dici al broker io voglio comprare da te 100 CFD di azioni Amazon il broker con te fa un contratto per differenza quindi appunto si impegna a pagarti la differenza tra il valore attuale di quelle azioni e il valore che avranno quando tu chiuderai la tua posizione vendendo i tuoi CFD e quindi non hai i costi di negozazione che c'erano una volta perché questi contratti sono stipulati in automatico con un click sulle piattaforme di trading per cui non hai più bisogno di passare dal mercato interbancario di piazzare ordini di avere una persona addirittura magari sul trading floor direttamente che gridando come nei film magari ti ricordi una voltrona per due firma e lancia bigliettini per cercare di gestire le posizioni dei clienti ecco tutto questo ormai è un vago ricordo si fa questo contratto digitale tra il broker e questo ha veramente costi di negoziazione minimi siamo passati da avere dei costi sorbitanti e poi grazie ai CFD ad avere dei costi davvero irrisori e da ultimo i CFD ti promettono di utilizzare la leva finanziaria la leva finanziaria ti permette di moltiplicare la portata del tuo capitale e adesso ti ho lanciato lì questo concetto però ne parleremo meglio tra poco proprio in un capitoletto riservato alla leva volendo riassumere i CFD ti permettono esattamente come i sottostanti di ricevere ad esempio i dividendi quindi se tu ovviamente ci sono degli asset che non hanno dividendi tipo il petrolio non rilascia dividendi però se tu compri un CFD su un'azione per esempio l'azione di Facebook e quell'azione rilascia un dollaro di dividendi anche il proprietario del CFD ha il suo diritto e come a ricevere il suo dollaro di dividendi a differenza dei sottostanti però tu puoi anche vendere allo scoperto quindi andare short si suol dire quindi anziché comprare per poi vendere puoi vendere per poi comprare speculando sul fatto che il valore di un certo strumento finanziario nel frattempo andrà ad abbassarsi e questa è una cosa che quando si poteva fare trading soltanto con i sottostanti invece non si poteva fare ed è una manna dal cielo anche questa perché pensa ad esempio a un momento di crisi un momento magari di recessione è molto facile fare trading con gli short andando a vendere allo scoperto e invece sarebbe quasi impossibile realizzare un profitto se tu potessi soltanto comprare i titoli e da ultimo appunto i CFD ti permettono di utilizzare la leva finanziaria cosa che invece con i sottostanti non puoi andare a fare ora capiamo meglio il concetto della leva finanziaria perché è assolutamente uno dei contenuti fondamentali di questo corso è una delle cose che ti accompagnerà sicuramente di più anche una volta che inizierai a fare trading per davvero e la leva finanziaria è insieme ai CFD la seconda svolta che ha permesso al mondo di portare il trading online ora supponiamo che tu sul tuo account abbia 100 euro e che tu voglia fare trading su uno strumento in cui il tuo broker ti dice su questo strumento puoi utilizzare una leva di 1 a 10 cosa vuol dire? vuol dire che per ogni euro che tu hai puoi investirne fino a 10 la differenza ce la mette il broker quindi il broker ti presta letteralmente del denaro supponendo che tu abbia 100 euro ad esempio li investi in leva 1 a 10 e puoi investire 1000 euro ora su questi 1000 euro ecco facciamo un esempio semplice supponiamo che ci sia un'azione che vale 100 euro con gli strumenti tradizionali tu con 100 euro compravi solo una azione da 100 euro con i CFD invece se tu hai 100 euro puoi comprarne 10 magari di azioni da 100 euro se tu registri un guadagno quindi magari il valore delle tue azioni raddoppia tu fai il tuo guadagno calcolato su tutto l'investimento quindi su tutti i 1000 euro che hai investito che diventano in questo caso 2000 euro se invece le tue azioni scendono di valore sei protetto contro il saldo negativo quindi se acquisti 1000 euro di azioni ma domani quelle scendono e valgono solo più 800 tu non puoi perdere 200 euro ne puoi perdere solo 100 perché il tuo account ha quella cifra e per la legge europea introdotta da ESMA già ormai da diversi anni ogni cliente deve essere protetto contro il saldo negativo quindi la leva finanziaria permette anche a persone con capitali piccoli di poter approdare con successo sui mercati finanziari supponiamo ad esempio che tu abbia soltanto 2000 o 3000 euro da investire nel mondo della finanza tradizionale questi 2000 o 3000 euro possono fruttarti magari il 5% l'anno quindi 100 150 euro che se vai a togliere tasse commissioni eccetera eccetera non ti resta nulla e non ti è convenuto affatto investire è così in realtà fino anche a 10 15 20 mila euro ma se tu invece pensi di aumentare il tuo capitale magari di 10 20 o 50 volte grazie alla leva finanziaria ecco che anche un capitale piccolo come possono essere anche solo 1000 euro diventa una cifra meritevole di investimento a maggior ragione con i costi di negoziazione bassissimi che ci sono con i cfd ora una conseguenza diretta di quello che noi abbiamo detto è questa se tu registri una variazione magari dell'8% come quella che avevamo visto prima sull'oro e non usi la leva il tuo guadagno è appunto solo dell'8% ma se il tuo broker ti dà su un certo strumento una leva 1 a 10 vuol dire che se tu registri un guadagno dell'8% in realtà rispetto alla cifra che hai investito tu hai fatto l'80% proprio perché il broker ti ha fatto quel prestito della leva finanziaria che ti ha permesso di guadagnare su 10 volte tanto ora tra l'altro è giusto ricordare che quando tu usi la leva appunto il broker che ti presta soldi e su questi soldi vai a pagare delle minime commissioni un tasso di interesse giornaliero normalmente dello 0,01 2,3,4 quindi cifre davvero bassissime per cui magari non guadagni proprio l'80% anziché l'8% ma il 79,998 però comunque è molto meglio usarla che non usarla e essendo un'arma a doppio taglio ricordati che vale anche al contrario quindi se tu perdi l'8% in leva 1 a 10 perdi l'80% di quello che hai investito anziché solo l'8 ora prendiamo la mano con i grafici proprio perché conoscere meglio la nostra piattaforma di trading è assolutamente essenziale se vogliamo avere successo dunque le prime cose che puoi fare nel trading logicamente sono a comprare e vendere strumenti finanziari qui vedi di nuovo la piattaforma di etoro e possiamo fare un esempio molto pratico quindi come si fa ad esempio se tu vuoi comprare un certo strumento digiti il nome di quello strumento nella barra di ricerca etoro te lo trova e poi qui vedi il grafico che si apre nella piattaforma con qui due pulsanti S e B la S sta per sell quindi vendere e la B sta per buy quindi comprare se tu vuoi comprare appunto clicchi sulla B e puoi comprare il tuo strumento scegliendo quanto investire e anche come parlavamo prima come dicevamo prima puoi scegliere la leva appunto che desideri utilizzare per il tuo investimento comprando ovviamente tu cerchi di comprare a un prezzo basso per poi vendere a un prezzo alto quindi investi sul fatto che il valore di quell'asset aumenterà il contrario invece è la vendita allo scoperto quando tu vendi allo scoperto stai effettivamente vendendo qualcosa che non hai il che può sembrare strano stranissimo nell'economia reale ma in realtà sui mercati finanziari è una cosa che succede da tantissimo tempo ed è perfettamente normale quindi tu prima vendi questi titoli sul mercato anche se non li possiedi e poi logicamente sei però costretto ad acquistarli in futuro per tornare sempre a zero l'importante è che alla fine il saldo sia zero quindi se tu compri dieci titoli e poi li vendi alla fine ne hai zero e se tu prima li vendi e poi li compri alla fine ne hai comunque zero per cui è proprio per questo che è più che consentito appunto fare il cosiddetto short selling che vuol dire vendere allo scoperto quando investi al ribasso logicamente la tua prospettiva è l'esatto contrario cioè vendere ad un prezzo più alto per poi riacquistare ad un prezzo più basso una volta che hai aperto la tua posizione puoi anche logicamente andare a monitorare il suo andamento sui toro trovi un tasto dedicato che è quel portafoglio che si trova a sinistra nella tua piattaforma di trading e come vedi qui c'è un resoconto molto semplice che ci dice che abbiamo investito sullo UK100 che è un indice che raccoglie le 100 aziende più grandi quotate a Londra abbiamo venduto 0,39 contratti in una posizione di vendita quindi di short di vendita allo scoperto e troviamo anche il valore che abbiamo investito il profitto che stiamo facendo e il profitto in percentuale ora questa è la versione da desktop ma se tu fai trading da mobile perché preferisci è esattamente uguale quanto sulla piattaforma di Toro non cambia assolutamente nulla ora bene che sappiamo aprire una posizione ma quando è il caso di aprirla e come dovremmo gestire i nostri investimenti ci sono diverse strategie che possiamo utilizzare per decidere se e quando sia il caso di entrare sul mercato il primo modo per farlo è con l'analisi fondamentale quindi il cosiddetto fare trading con le notizie dunque l'analisi fondamentale si basa sul fatto che sono le notizie a muovere i mercati finanziari notizie importanti ad esempio possono essere annunci delle aziende che magari rivelano i loro dati di bilancio i loro dati trimestrali quindi supponiamo che adesso Facebook ci dia domani pubblichi il suo bilancio ecco leggendo i numeri che ovviamente ha fatto nell'anno scorso gli investitori si regolano per comprare o vendere azioni Facebook e di conseguenza quell'azione molto probabilmente nella giornata di domani si muoverà parecchio proprio perché è uscito il bilancio possono esserci discorsi di presidenti delle banche centrali ad esempio in un periodo di crisi è normale che il presidente della banca centrale magari parli rassicurando sull'economia o che annunci nuove politiche monetarie come può essere un aumento del tasso di interessi nuove emissioni di titoli questo genere di cose oppure possono essere questioni politiche o comunque geopolitiche supponiamo ad esempio che ci sia una guerra oppure la guerra dei dazzi che è una guerra più figurata ma anche cose invece positive come può essere un nuovo accordo commerciale piuttosto che la scelta di liberare da dazzi alcuni beni magari tra nazioni che fino a questo momento avevano una politica più protezionista ecco questo genere di cose può muovere dalle valute alle azioni a seconda della notizia che è perché queste sono notizie che escono quasi tutti i giorni ma se guardiamo al quadro più ampio possono succedere anche eventi più strani come un terremoto piuttosto che una nuova scoperta in ambito scientifico che porta un certo settore a doversi reinventare con le azioni del settore che ne risentono ora qui ti facciamo vedere ad esempio come sono cambiate le cose durante la pandemia che ha colpito il mondo nel 2020 come puoi vedere quando in Europa ha iniziato a diffondersi il virus e comunque i giornali ne parlavano gli investitori avevano paura per il lockdown per tutte le cose che sono successe che logicamente hanno portato a un certo panico sui mercati l'indice di cui parlavamo prima lo UK 100 è colato a picco letteralmente in pochi giorni e questa è stata una discesa guidata proprio dalle notizie e chiaramente se noi avessimo avuto titoli comprati nel modo tradizionale sarebbe stata per noi una bruttissima sorpresa proprio perché potendo solo comprare quindi investire a rialzo avremmo perso moltissimo denaro mentre con il trading chi ha visto arrivare questo trend ha potuto fare profitti davvero ingenti perché ha potuto vendere allo scoperto e quindi vendere quando il prezzo era molto alto dopo anni di rialzi e poi lasciare che il riacquisto avvenisse dopo alcuni mesi a una cifra sensibilmente più bassa ora dove possiamo trovare le notizie necessarie per fare trading con successo il primo punto dove possiamo guardare è il earnings calendar è un calendario qui vedi quello di eToro anche l'altro sono due screen di eToro quindi se ti sei registrato come ti abbiamo consigliato prima li troverai gratis sulla tua piattaforma che ti permettono di essere sempre aggiornato sulle notizie delle aziende quindi vai a vedere ad esempio quando una certa azienda ha deciso di pubblicare il suo bilancio i suoi dati trimestrali perché a seconda della azione in cui quella azienda è quotata possono uscire report trimestrali oppure annuali e questo ti aiuta ovviamente a fare trading con le aziende mentre il calendario economico ti aiuta più a capire come andranno evolvendo le valute e le materie prime perché perché il calendario economico contiene notizie di un altro genere quindi per esempio i dati sulle scorte di petrolio chiaramente più ci sono scorte di petrolio quindi più c'è offerta più il prezzo del petrolio scende mentre se ci sono poche scorte il prezzo del petrolio sale oppure puoi avere dati come la disoccupazione negli Stati Uniti il PIL in Europa e tanti altri e appunto di fianco a ogni evento puoi trovare l'orario in cui verrà pubblicato la data la previsione degli analisti anche quei tre torellini normalmente sono dei pallini ma qui siccome quello di Toro sono dei piccoli torellini da uno a tre dove uno vuol dire che quella notizia è previsto che abbia un basso impatto sui mercati mentre tre pallini indicano che l'impatto dovrebbe essere forte quando tu fai trading specialmente con le notizie possono esserti molto utili di alcune automazioni che vengono utilizzate da tantissimi anni nel mondo del trading qui vediamo i concetti appunto fondamentali di quello che potremmo chiamare in modo un po' generico approssimativo trading automatico ora la prima cosa che puoi fare è un ordine di prezzo quindi prima abbiamo visto come comprare ora se tu fai caso a quel piccolo menu tendina che si apre sui toro quando clicchi sulla B di buy oppure anche sulla S di sell che potrebbe anche essere la S di short chissà se il toro ci darà chiarimenti in merito comunque ti viene data anche la possibilità appunto di selezionare un ordine come vedi la piattaforma ti chiede di scegliere un prezzo a cui impostare il tuo ordine quindi che cosa succede che se l'asset raggiunge il prezzo desiderato la piattaforma aprirà in automatico per te quella posizione di acquisto o di vendita a seconda di che cosa hai impostato anche quando tu non sei davanti al computer o al telefono e persino se i tuoi dispositivi con cui fai trading non sono connessi a internet quindi davvero molto comodo perché ci risolve il problema di dover andare a fare degli aggiustamenti manuali mentre il prezzo si sta muovendo e qui invece abbiamo un'impostazione che rimane e noi possiamo quasi disinteressarcene una volta che la posizione è aperta sia che sia stata aperta manualmente che in modo automatico possiamo anche sempre chiuderla con le automazioni impostando un valore di stop loss e o un valore di take profit un valore di take profit è un valore di prezzo in guadagno per noi trader che quando verrà raggiunto insomma dirà alla piattaforma di chiudere la nostra posizione quindi supponiamo che tu compri delle azioni Amazon a 1000 dollari ciascuna se tu vuoi chiudere in automatico quando le azioni arrivano a 1000 e 100 lo puoi fare impostando un take profit lo stop loss invece è la stessa cosa ma è una chiusura sulle perdite quindi se appunto tu le azioni le hai comprate a 1000 e pensi che se arrivano a 950 non ti conviene più tenere aperta la posizione allora puoi dire alla piattaforma che nel caso in cui le azioni dovessero toccare a quel prezzo essa deve chiudere per te la piattaforma ovunque tu sia nel mondo anche se non sei davanti ai grafici questi sono comunque due strumenti davvero molto utili molto importanti che vengono utilizzati tutti i giorni specialmente dai trader di professione e sono sottovalutati ecco è bene dirlo prima di passare all'argomento successivo perché le automazioni non sono una cosa avanzata in realtà sono una cosa con cui bisognerebbe prendere familiarità fin dall'inizio perché un trader sta davanti ai grafici per trovare delle posizioni non da aprire al momento ma a cui chiederà la macchina poi di aprirle quando ci saranno le condizioni per farlo quindi dall'inizio dovresti allenarti se hai aperto il tuo account sui toro come abbiamo consigliato lo puoi fare già adesso se no ti consigliamo di aprirlo ora così puoi provare e di prendere la mano con questo tipo di trading anziché con la compravendita sul momento come spesso fanno i trader alle prime armi che poi nel lungo termine ti lascia questa impostazione sbagliata o comunque molto limitante ora passiamo al secondo argomento ancora più importante della nostra guida cioè l'analisi tecnica come abbiamo detto prima l'analisi fondamentale si basa sullo studiare le notizie ma devi sapere che la maggior parte dei trader non fanno analisi fondamentale fanno analisi tecnica perché perché l'analisi tecnica utilizzando la matematica la statistica e i percorsi dei prezzi per capire dove andrà un certo grafico offre dei vantaggi rilevanti a un trader privato rispetto alle notizie nello specifico l'analisi tecnica ti permette intanto di giocare alla pari con tutti cioè è chiaro che sulle notizie se tu sei un grande fondo di investimenti un'assicurazione o comunque hai dei contatti di un certo genere riesci ad arrivare un pochettino prima sulle notizie e di conseguenza se c'è insomma un momento in cui deve essere pubblicato il report e un'altra persona lo tieni anche solo 5 minuti prima la persona che lo tiene 5 minuti prima vince per cui il mercato delle notizie ecco anche se ci sono delle cose il relato di insider trading e quant'altro però si sa che non è proprio al 101% trasparentissimo mentre nell'analisi tecnica tutti giocano davvero 100% alla pari tu come il più grande trader di wall street avete gli stessi strumenti a disposizione la seconda cosa è che puoi elaborare delle tue strategie che sono uniche e quando elabori una strategia ci sono un vero trader di successo che hanno usato la stessa strategia per 20 o 30 anni una volta che hai il tuo cosiddetto trading system te lo puoi tenere e puoi usarlo ripetutamente tutte le volte che vuoi sapendo che potrai creare un successo sostenibile ripetibile replicabile mentre le notizie sono delle cose che escono una volta ogni tanto specie notizie così importanti come appunto quella del covid come dicevamo prima o quella di Brexit o quella di Trump magari che diventa presidente mentre tutti i giorni l'analisi matematica e statistica sui grafici quindi l'analisi tecnica ti permettono di trovare posizioni e di fare esperienza tra l'altro è molto efficace nel Forex che essendo il mercato più lineare il migliore per i trader alle prime armi rende questo tipo di analisi ancora più efficace ancora più consigliabile proprio per i trader che stanno iniziando perché il Forex è sostanzialmente un mercato con tantissima liquidità qui si accede da ogni piattaforma con commissioni bassissime quindi il fatto che l'analisi tecnica ti aiuti a prevedere le valute è ancora meglio ora i concetti base dell'analisi tecnica sono tre il primo è che i mercati sono matematici che cosa significa significa che chi fa questo tipo di analisi parte dal presupposto che con la matematica tu possa capire dove si sta dirigendo il prezzo di un certo asset e che di conseguenza ovviamente tu capendo i numeri che ci sono dietro possa anticipare queste mosse la seconda cosa da sapere è che chi fa l'analisi tecnica segue sempre il trend o comunque nel 90% e più dei casi molte persone specialmente trader alle prime armi pensano che fare analisi tecnica significa capire quando è che il prezzo che ora sta scendendo tornerà su oppure viceversa invece no chi fa analisi tecnica specialmente a livelli alti cerca di capire quanta strada farà ancora il trend in corso se ci sia il potenziale per entrare adesso sul mercato perché seguendo un trend è molto più facile è molto più probabile è molto più statisticamente fattibile continuare a guadagnare e da ultimo l'analisi tecnica insegna che ci sono dei percorsi di prezzo quindi letteralmente delle forme assunte dalle candele sul grafico in base a come sono disposte a quanto sono alte a come sono ordinate eccetera eccetera che ci aiutano a capire quale sarà proprio l'evoluzione futura di questo prezzo ora l'analisi tecnica fa uso di tantissimi strumenti quindi prima avevamo soltanto il learning calendar e il calendario economico invece se parliamo di analisi tecnica dobbiamo allargare decisamente lo spettro della nostra analisi e allargarci a un pochettino di cose in più la prima sono le medie sono un indicatore famosissimo la prima cosa che conosce normalmente un trader alle prime armi e su guida tradingonline.net ovviamente trovi una spiegazione completa di tutti questi strumenti delle medie dei livelli chiave degli indicatori però qui ti diamo un'infarinatura una media rappresenta il prezzo medio di un certo asset negli ultimi tot periodi detto così sembra complicato però supponiamo che tu abbia un grafico dove ogni candela rappresenta un giorno quindi time frame un giorno come si dice tecnicamente se tu imposti una media a 15 periodi la media ti dice qual è il prezzo che ha avuto in media quello strumento negli ultimi 15 giorni detta così sembra una cosa che ti aiuta poco ma appunto se vai a consultare le guide di guida tradingonline.net ti accorgerai che se sai come usare questo tipo di informazioni possono essere davvero preziosissime la seconda cosa sono i livelli chiave i cosiddetti supporti e resistenze cioè guardando un grafico ti accorgerai che il prezzo tende comunque a rimbalzare più o meno sempre intorno agli stessi valori prendi per esempio l'euro l'euro dollaro non siamo mai arrivati ad avere l'euro che vale esattamente un dollaro non siamo mai arrivati ad avere per esempio l'euro che vale un dollaro e 50 quindi ci sono delle fasce di prezzo all'interno del quale si muovono questi strumenti specialmente le valute e che tendono a ripetersi nel corso del tempo logicamente i livelli chiave sono una cosa che va studiata in modo molto dettagliato ma per fartela breve il supporto è un certo prezzo che quando viene colpito vede l'asset tornare a rialzo quindi interrompere la sua discesa e la resistenza è il contrario quindi è un prezzo al di sopra del quale è molto difficile che l'asset salga quando un prezzo rompe quindi supera un supporto o una resistenza si creano delle situazioni di trading molto interessanti dei trend molto forti che sono proprio il mantra la cosa più attesa dai trader di analisi tecnica specialmente quando sono supporti e resistenze importanti di lungo termine anche questo su guilatradingonline.net trovi tutti i riferimenti e le cose da studiare e da ultimo gli indicatori sono proprio dei calcoli matematici statistici che ti aiutano a vedere con i numeri oppure direttamente con dei disegni sul grafico come si sta evolvendo come sta evolvendo un certo trend e come si mette il mercato quali sono le prossime mosse che è probabile che il prezzo compia logicamente indicatori sono tantissimi le medie possono essere a 1 a 10 a 100 periodi puoi usarne 3-4 insieme i livelli chiave dalle trend line quindi quelle ondulate piuttosto che quelle orizzontali piuttosto che i pivot points sono altrettanto tantissimi quindi l'analisi tecnica è proprio una disciplina ed è una disciplina che puoi studiare anzi dovresti studiare consigliatissimo farlo ed è impossibile spiegartela tutta in un video perché mi servirebbe almeno un video corso di 10-15 ore per poterti spiegare tutta l'analisi tecnica la cosa che posso dirti appunto vai seguire tradingonline.net e impara a utilizzare questi singoli strumenti una volta che sai usare i singoli strumenti poi puoi creare delle strategie come quella che vedi qui qui vedi tre medie mobili applicate sul grafico quelle verdi quella blu e quella rossa che ruotano intorno al prezzo dell'asset e poi puoi vedere un MACD che è un indicatore quello che vedi sotto con una linea rossa e una nera puoi vedere dei livelli chiave che sono quelle linee orizzontali rappresentate in nero sul grafico e magari tutto questo ti sembra davvero complessissimo specialmente se appunto hai appena iniziato e dici oh mio dio non si capisce nulla è tutto colorato è tutto incastrato cosa devo fare scusami un secondo ma ti assicuro che è molto molto semplice capire queste cose l'importante è dedicarsi allo studio perché la teoria nel trading online è assolutamente fondamentale poi logicamente anche la pratica però è studiare la teoria in primis in modo tale che tu possa padroneggiare i singoli strumenti quindi le medie le MACD i livelli chiave altri strumenti e poi combinarli insieme in strategia cioè una volta che tu hai imparato ad utilizzare tutto il tuo arsenale di analisi tecnica singolarmente puoi combinare queste cose tra loro quindi i livelli chiave con le medie con gli indicatori eccetera per capire che tipo di strategia completa vuoi creare e creare un certo format che magari studia prima un supporto poi una media mobile poi un indicatore e una volta che tutti e questi tre strumenti singoli ti danno un certo segnale allora si completa la tua strategia e sai che è il momento di investire e magari sai di avere un ritorno fisso del X percento quando applichi questo tipo di strategia cioè questo è il punto di approdo dell'analisi tecnica qui è dove i trader puntano ad arrivare avere una strategia avere un insieme di tecniche azionabili per poter investire sui mercati finanziari con successo combinando singoli strumenti tra di loro ora se tu vai su guidatradingonline.net slash strategie trattino trading troverai comunque lì in descrizione così non c'è bisogno che la memorizzi in ogni caso troverai una serie di strategie già prontate per te che sono strategie non create dalla nostra redazione ma strategie molto famose che vengono utilizzate da tanti anni nei mercati finanziari e questo ti permetterà di sveltire molto la tua preparazione perché potrai già studiare queste strategie capendo esattamente come funzionano quali sono le cose da guardare quali sono le cose da sapere e mettendoli in pratica potrai copiare insomma le azioni che hanno reso famosi alcuni trader con le loro strategie parliamo di persone che hanno avuto davvero grandi risultati e noi siamo felici di aver raccolto tutte queste informazioni per te in una singola guida anche piuttosto semplice da capire quindi anche se sei alle prime armi riuscirai comunque a seguirla abbastanza facilmente e per l'appunto trovi il link in descrizione ora un altro concetto fondamentale di cui dobbiamo parlare è l'orizzonte di tempo negli investimenti del trading online ovviamente il trading nasce come investimento speculativo quindi non per il cassettista che vuole fare il suo piano d'accumulo investire ogni mese 50 euro 100 euro e trovarsi le cose tra 50 anni no il trading più che un investimento è un business è un lavoro ti rende un imprenditore a tempo pieno per cui quando fai trading sostanzialmente cerchi di speculare sull'orizzonte di breve termine sui piccoli cambiamenti di valore di un asset e vai a chiudere le tue posizioni o ad aprirle con grande frequenza e grande rapidità per cui ci sono i più dinamici in assoluto che sono gli scalper coloro che fanno lo scalping e questo termine indica chi apre tantissime posizioni persino centinaia al giorno in cui ognuna dura pochi minuti o addirittura pochi secondi quindi si va a cercare di fare un guadagno minimo ma su tantissime operazioni ripetute poi ci sono i day traders che invece utilizzano un orizzonte di tempo approssimativamente di uno due massimo tre giorni e da ultimo ci sono gli swing traders che invece tengono le loro posizioni aperte anche per alcune poche comunque settimane logicamente tutte e tre queste strategie hanno il potenziale per funzionare dipende da te dipende dalle cose che preferisci dipende dal tuo atteggiamento verso i mercati dipende anche da cosa ottieni sul tuo conto demo provare tutte e tre non guasta e in un primo momento dovresti proprio concentrarti sullo sperimentare sul fare dei tentativi per capire che tipo di trader sei però sappi che mediamente ci sono queste tre categorie di investitore e una volta trovata la tua logicamente poi potrai percorrerla e studiare tutte le strategie che ci sono da applicare all'interno di quel tipo di nicchia se così vogliamo chiamarla ora devi sapere che tra il 75 e il 90 per cento dei trader perdono denaro se anche vai sulle piattaforme di trading leggerai il tot per cento l'83 per cento il 79 per cento perde denaro facendo trading con questo broker e perché ti assicuro che in realtà l'83 piuttosto che il 79 per cento sono pochi sono molto pochi rispetto alla quantità di trader che effettivamente arrivano e fanno le cose a casaccio e il motivo principale per cui perdono denaro è la mancanza di pratica cioè fare trading significa imparare un mestiere applicare delle tecniche giorno per giorno migliorarsi studiare fare tentativi esperimenti e nel corso del tempo arrivare poi ad essere bravo consolidato e poter prendere le tue strategie vincenti e portarle sul conto reale quindi mediamente affinché un trader finisca la sua formazione e sia pronto per affrontare con successo i mercati possono servire dai 6 ai 36 mesi ora questa è una media ma ti assicuro che per arrivarci in 6 mesi devi comunque essere piuttosto dedito cioè stare almeno 1, 2 o 3 ore tutti i giorni a imparare il mestiere facendo trading studiando quindi provando con il conto demo e applicando della teoria che vai a studiare su guiratradingonline.net o su corsi e altri libri se preferisci ma comunque è assolutamente essenziale che tu approfondisca questi argomenti non puoi non farlo e non puoi buttarti subito all'interno del trading con un conto reale perché rischieresti di fare danni enormi irreparabili che è quello che fanno la maggior parte dei trader cioè spinti dall'abilità si iscrivono a una piattaforma pensano che sia semplice pensano che i soldi siano dovuti pensano che i mercati siano lì ad aspettare loro quindi prendono depositano iniziano a fare trading dopo 3 giorni hanno perso tutto e dicono che sono stati truffati ma non è così molto semplicemente pensavano che fossero soldi facili quando in realtà il trading è esattamente come la persona che va a studiare ingegneria la persona che va a studiare comunicazione o psicologia sta lì in università studia dà gli esami fa pratica fa test fa tirocini e logicamente in una professione dove si può guadagnare mille volte quelle che abbiamo appena citato non è che sia non è che possa essere più semplice di così anzi per l'appunto bisogna essere molto debiti ora la carriera del trader normalmente inizia anzi deve iniziare così con un conto demo in cui si fa solo trading con denaro virtuale poi si passa a studiare le strategie quindi su guidatradingonline.net puoi comprare anche poi se vuoi dei corsi di altre persone dei libri comunque più materiale formativo hai ovviamente facendo l'attenzione a comprare da persone serie con risultati dimostrabili più studi meglio è perché puoi portare tutto quello che studi dentro il tuo conto demo e vedere cosa funziona e cosa non e soprattutto cosa funziona meglio per te quando riesci a trovare delle strategie che sono ormai per te consolidate comunque riesci a gestirle bene riesci ad avere risultati importanti allora in quel momento lì puoi portare quello che stai facendo sul tuo conto reale e lì iniziare ad investire denaro vero e proprio e iniziare la tua carriera con profitti consistenti ma anche se i familiari ti rideranno dietro quando usi il conto demo ma la tua carriera parte già quando usi il conto demo perché in realtà un conto reale di successo non è nient'altro che il frutto di impegno messo sul conto demo con strategie testate efficaci prima di portarle nel conto reale ora quanto si guadagna? questa è una domanda che ci viene fatta molto spesso ma purtroppo la domanda è proprio sbagliata è impossibile definire quanto guadagna un trader perché di per sé non c'è un limite al profitto che puoi realizzare esattamente come tutti gli altri imprenditori non c'è neanche un limite però alle perdite che puoi realizzare esattamente di nuovo come tutti gli altri imprenditori ci facciamo un esempio se tu domani volessi aprire un negozio di scarpe potrebbe andare bene le cose decollano gli affari volano si trasforma in un franchising che si trasforma in una catena che si trasforma in una multinazionale e potresti fare miliardi vendendo le scarpe il discorso è che non c'è nemmeno un limite alle perdite che puoi realizzare perché se il tuo negozio di scarpe fallisce dopo due settimane è fallito non è che il negozio di scarpe in sé è una truffa è che bisogna vedere come va come riesci tu a gestire il tuo business solo che mentre nel negozio di scarpe non puoi fare un conto demo un negozio demo qui lo puoi fare ed è un grandissimo vantaggio perché puoi evitare di non partire con i soldi veri finché non sei sicuro di ciò che fai ora ci sono migliaia letteralmente migliaia se non decine di migliaia di trader che sono iper milionari ok e ci sono milioni di trader che hanno invece soltanto contribuito a rendere gli altri milionari perché ci sono pochissime persone che si dedicano in modo serio in modo attivo a utilizzare la loro piattaforma di trading in modalità demo prima di passare al conto reale che si dedicano a studiare che si dedicano a fare le cose che servono per poter avere successo sui mercati invece ci sono tantissime persone che entrano nel settore pensando che sia tutto semplice tutto facile tutto dovuto entrano depositano subito chissà quali somme di denaro nel conto reale iniziano a schiacciare i pulsanti acquista e vendi a raffica senza sapere bene quello che stanno facendo e alla fine della fiera questo lì si ritorcia ovviamente contro perché come aprire il tuo negozio di scarpe in una via dove non passa nessuno senza sapere neanche il mercato delle scarpe minimamente come funziona quindi è un fallimento già annunciato ed è uguale nel trading online ti ripeto è uguale ad avere un tuo business anche in altri settori ora la chiave di tutto questo discorso non è se il trading è buono o non è buono perché i mercati muoversi si muovono quindi chiunque voglia speculare da quelle variazioni lo può fare sia rialzo sia ribasso per cui le potenzialità ci sono tutte la chiave non è il trading la chiave sei tu cioè tu in cuor tuo dovresti chiederti sono disposto a studiare quindi voglio mettermi lì aprire dei libri aprire guidatradingonline.net mettermi a studiare la teoria iniziare proprio un percorso formativo come quello che si faceva a scuola per imparare una cosa di cui magari al momento non so nulla o so molto poco seconda cosa stai cercando un lavoro o un guadagno facile cioè se tu sei attirato dal trading solo perché dici vorrei mille euro subito faccio mille euro e poi non investo più ecco no il trading assolutamente non fa per te questo genere di cosa nel trading non esiste e per la verità è difficile trovarla anche in altri settori però non c'è quella cosa lì del faccio un soldo veloce e poi mi ritiro un quick buck come dicono gli americani no non ci sono guadagni facili non ci sono i trading system gratis online che ti fanno vincere dopo comunque lo vediamo meglio però fai trading se cerchi un'occupazione magari anche solo part time in un primo momento però se sei davvero disposto ad impegnarti in una cosa lavorativa e da ultimo sappi che nel trading conta molto anche la tua psicologia cioè se sei una persona molto impulsiva molto caratteriale che non riesci a stare calma è sconsigliabile per una persona così fare trading perché perché in buona sostanza rischi di compromettere le tue posizioni ad esempio cercando quando fai una perdita di reinvestire subito senza riflettere su quello che fai per cercare di riappienare subito le perdite oppure perché magari quando la tua posizione va giù non riesci a stare calmo perché sai che la tua strategia funziona ma non riesci a stare calmo quindi chiudi subito e poi il prezzo torna dove volevi tu quindi anche la la tua indole proprio ha una rilevanza in questa scelta però se sei una persona che si vuole mettere in gioco ed è in grado di tenere i nervi saldi quindi il trading può essere perfetto per te da ultimo affrontiamo questo delicato argomento che riguarda le truffe nel trading online si sente purtroppo dire tanto il trading la truffa la truffa il trading e ti possiamo assicurare che questo argomento è molto più semplice di quello che pensi cioè in Italia abbiamo una regolamentazione ferrea delle piattaforme di trading così come in tutta Europa e in tutti gli altri paesi sviluppati sostanzialmente quindi se tu vuoi avere una piattaforma di trading devi prima ottenere la licenza la regolamentazione in uno dei 28 paesi dell'Unione Europea poi devi ottenere la licenza l'autorizzazione in ognuno di questi singoli stati quindi ottieni la licenza a Cipro ad esempio e poi operi con l'autorizzazione della Consob in Italia le piattaforme di questo tipo sono quelle che appunto ti mettono seriamente in contatto con il mercato puoi comprare puoi vendere eccetera eccetera poi ci sono altre piattaforme che invece non sono così non sono autorizzate a Consob non sono regolamentate in Europa e non sono legali ma offrono guadagni facili schemi ponzi schemi piramidali eccetera eccetera e convincono le persone proprio perché come dicevamo prima la maggior parte delle persone non entra nel trading con l'intento di fare un business di fare una cosa seria di mettersi in gioco ma solo con l'intento di dire vediamo se riesco a fare i soldi veloci online se riesco a trovare il guadagno facile e ovviamente poi perde soldi e poi si fa appunto turlupinare dalle piattaforme fittizie dalle truffe che ci sono online e che si basano appunto su queste due leve la prima è la vidita dei traders che vogliono tutto e subito pensando che ci sia qualche segreto mistico per cui ci sono persone che non lo so alla mattina aprono lo studio medico anziché stare a guadagnare in automatico con il trading online grazie alle piattaforme che sono in Somalia e poi perché comunque i truffatori di per sé conoscono bene i loro polli e sono astuti quindi che cosa succede? ti promettono cose che non esistono sostanzialmente ci sono proprio interi modelli di business inesistenti che però hanno costruito degli imperi ad esempio robot di trading automatici segreti rubati alle banche a Soros a trader di quello e quell'altro livello falso completamente falso non esistono soggetti che online ti venderanno da posti strani pagando con Paypal un robot di trading automatico iperprofittevole non esistono neanche i metodi di guadagno passivo con il trading ok? quindi quei mettili i soldi ti diamo l'1-2-3% al giorno quelli cavolate assolutamente non esistono tizi strani che hanno scoperto segreti nascosti occulti oppure il discorso del investi 200 euro su Amazon ora diventa rico cavolate esattamente comunque in generale non esistono guadagni facili sappilo questo è veramente importante perché ci proveranno in tanti a propinarteli sono purtroppo delle realtà che la consul non riesce a tenere sotto controllo perché ne nascono tante ne nascono ogni giorno il sistema comunque per condannarle è molto complicato spesso queste piattaforme sono create da persone che non si sa chi sono operano da paesi che non si sa quali siano e non si conosce il loro nome quindi alla fine è molto molto complicato stabilire anche chi condannare per cui se perdi i soldi su queste piattaforme non aspettarti tra l'altro di rivederli indietro perché non succederà mai quindi stai lontano da queste cose utilizza le piattaforme consigliate da guida tradingonline.net e comunque verifica sempre sia la licenza europea sia l'autorizzazione consob in Italia una delle truffe più pericolose forse è quella dello schema Ponzi lo schema Ponzi è tornato di moda grazie a internet e funziona così tu vieni convinto di investire da una persona che guadagna sul fatto che tu ci stai investendo però ti dice che se tu porti altre persone a investire in quella cosa lì anche tu puoi guadagnare su quello che investono loro puoi guadagnare su quello che investono le persone portate dalle persone che tu hai portato e poi che tu puoi guadagnare dalle persone che sono portate dalle persone che sono portate dalle persone che tu hai portato quindi questo enorme schema piramidale dove sostanzialmente tu sei pagato per convincere altre persone di investire e per costruire diciamo sotto di te appunto una piramide di persone reclutate sempre a livelli più sotto più sotto più sotto e questa cosa è illegalissima è alla base di truffe da veramente forse millenni parliamo di una truffa millenaria e c'è ancora nonostante ciò gente che ci casca e anche tanta e sono delle cose che purtroppo ti ripeto esistono perché soprattutto online è poi difficile intraprendere azioni legali e quant'altro e invece è molto facile cercare di prometterti dei guadagni facili e convincerti che dovresti investire con l'uno o l'altro sistema con cui fantomatiche persone si sono arricchite in tempo record senza fare nulla quindi diffida assolutamente da tutto quello che ti viene proposto di questo genere ora se sei pronto a cambiare il tuo futuro non nel senso di guadagni facili ma nel senso di intraprendere un nuovo percorso molto stimolante in un settore apertissimo dinamico dove puoi metterti in gioco e se vali davvero far fruttare il tuo valore al 1000% allora non ti resta nient'altro che iniziare a utilizzare il tuo fonte demo e ovviamente leggi tutte le guide di guidatradingonline.net per conoscere tutti i dettagli dell'analisi tecnica dell'analisi fondamentale che ancora non conosci comunque per entrare sempre di più all'interno del mondo del trading con saggezza e con successo e noi ti auguriamo il miglior successo dacci dentro e a presto